Sveglia! È Natale! Aspettate, aspettate, è uno alla volta! Grazie! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Sveglia! Toma! Luca! Ho paura. Ho paura anch'io. Luca! Luca! Maria! Sai, il momento più pauroso per me è stato quando sono riemerso ed ero solo. È stato il momento più brutto. E se la mamma e Luca adesso fossero soli, immagina quanta paura avrebbero. Luca, devi andare ad aiutare gli altri. Tu sei bravo. Te la caverai. Te la prometto. Sto cercando mio figlio. Cerca la sua famiglia. L'hai visti? Proverò ad aiutarla. Joseph! Belstron? È qui? Lucas! Lucas! Simon! Cercherò in tutti gli ospedali. Ok. Cercherò ovunque. Li ritroverò, te lo prometto. E l'abbè! E la perché? E l'abbè! E l'abbè! E l'abbè! E l'abbè! E l'abbè! Grazie a tutti.